Ennesimo femminicidio in Sicilia, in provincia di Catania, una 26enne Vanessa Zappalà è stata uccisa dall'ex fidanzato a colpi di arma da fuoco la scorsa notte mentre stava passeggiando sul lungomare di Acitrezza. Il giovane in passato era stato denunciato dalla ragazza per stalking. A ricostruire la dinamica della tragedia sono stati gli amici della giovane presenti durante l'omicidio. Vanessa stava trascorrendo con loro la serata quando ha visto arrivare il suo ex. Sempre secondo la testimonianza degli amici, dopo che tutta la comitiva si era fermata, lei si è avvicinata a lui. Poi la scena, terribile, il giovane ha estratto la pistola e le ha sparato per poi fuggire immediatamente. Uno dei colpi purtroppo ha raggiunto la testa, non lasciandole scampo.